Dal 3 al 6 giugno si è svolto a Mosca l'attesissimo festival della letteratura. All'ombra del Cremlino i moscoviti si sono incontrati tra stand dei libri per ragazzi, tavole rotonde e interviste con gli autori. L'edizione di quest'anno ha avuto l'ambizioso obiettivo di eguagliare il successo del 2015, che vide 200.000 persone radunarsi sulla Piazza Rossa. Da notare sicuramente il ruolo che la Russia attribuisce alla sua letteratura e alla sua diffusione di massa. Pochi autori in Occidente, infatti, hanno contribuito a fondare l'identità culturale così come fecero i grandi scrittori russi dei secoli passati, e forse nessuno meglio di loro è stato capace di descrivere l'anima e la natura del proprio popolo, con le sue stedenti contraddizioni e la sua straordinaria forza di adattarsi agli sconvolgimenti storici che il destino gli ha riservato. A far rivivere in questa fiera i fasti della letteratura russa dell'Ottocento sono stati gli spettacoli di famosi artisti, musicisti e star del cinema, che si sono esibiti sul palco allestito davanti la famosa cattedrale di San Basilio. Tra le varie esibizioni, particolare stupore ha destato la rivisitazione in chiave rock di Delitto e Castigo di Dostoevsky, oltre ad un'esemplare ricitazione tratta dalle Evgenie Nieggin di Pushkin. L'ingresso al festival era gratuito e i prezzi dei libri scontati del 20%. Il governo ha sostenuto economicamente l'iniziativa, a riprova del fatto che la rinascita russa passa anche da quella cultura storica e letteraria vanto di questo paese a livello mondiale.